per Garris, il taglio da parte di Bellinelli, ecco il pick and roll in corsa con Bagaric gioco che utilizza molto bene anche i paradini ai cost e altra schiacciata di Dalibor Bagaric pronti a cambiare o aiutare sul tiratore gran rubata d'astuzia di Sani Becirovic che appoggia due punti tripla quasi matematica tripla del vantaggio più due per la Virtus dopo la partenza lanciata degli ospiti Becirovic a spazio, questo è il tiro di Sani Becirovic di approccio da un punto di vista di mentalità è stata la squadra che è uscita meglio dagli sfogliatoi Lorbeck il consegnato per Kiwan Garris tre lato, la chiamata da parte di Garris, gioco di blocchi, l'uscita di Becirovic anche lui con spazio, anche lui con la tripla Minic con la deviazione ma il rimbalzo è ancora di Erasem Lorbeck e c'è ancora una situazione di contropiede Garris spettacoloso per il gran canestro di Sani Becirovic che palluccia Kiway Garris ed è molto più difficile tutti e mezzo prova il pubblico della Virtus a rimettersi letteralmente in partita blocco di Walton, Bellinelli da tre come un campione, anzi come Marco Bellis la difesa ancora come Ben Wallace meglio di Ben Wallace già dall'altra parte Becirovic questa volta non c'è in fallo per il giocatore sloveno time out immediato due terrificanti trazione di Vuccevic che torna a segnare ma sono i primi due punti dopo la beneficiata del primo tempo adesso va per terra Vuccevic Becirovic con calma per Garris il ritmo per il tiro da tre che può chiudere la partita e che forse chiude